Ricorre il 50esimo anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Pasquale Muschitiello e Don Antonio Bonerba. Per questo, domani alle ore 19, presso la Cattedrale di Bari, ci sarà una celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Francesco Cacucci. La Santa Messa sarà celebrata a porte chiuse ma verrà diffusa attraverso i canali social e le piattaforme internet da radio doppio zero e trasmessa dall'emittente trileregione Canale 14 del Digitale Terrestre. Don Pasquale della Diocesi Bitontoruvo e Don Antonio della Diocesi di Bari furono ordinati sacerdoti la domenica di Pentecoste del 17 maggio 1970 a Roma in piazza San Pietro da Papa Paolo VI in occasione del 50esimo della sua ordinazione sacerdotale. Insieme a loro furono ordinati sacerdoti in tutto 278 diaconi, uno per ogni diocesi del mondo.